Partirà domenica alle 9 da piazza Galimberti la 29esima edizione della Stracuni, la camminata non competitiva per le vie di Cuneo che consentirà ai 15.000 partecipanti di percorrere tutti insieme le strade cittadine chiuse al traffico. Una grande festa popolare a cui sono collegate la Stracuni Monge Dog, la passeggiata riservata ai proprietari dei cani e ai loro amici a quattro zampe e la Stracuni Asics Run, importante gara internazionale che vede da sempre cimentarsi i migliori mezzofondisti del momento. Noi ringraziamo i cunesi che da sempre ci seguono e partecipano con noi a questa manifestazione, 29 edizioni sono tante, è un traguardo veramente importante, un traguardo in cui possiamo dire che anche quest'anno abbiamo toccato il vertice avendo raggiunto la quota massima che possiamo supportare con le 15.000 iscrizioni. Ecco, il percorso è sempre lo stesso? Ci sono delle novità? No, il percorso noi lo cambiamo per quanto riguarda la Stracuni, quest'anno ci sarà sempre partenza arrivo in piazza Galimberti, poi si salirà su da via Ghidini, si arriverà al viale degli Angeli, si senderà da Tetto Cavallo, ci sarà la salita di Corso Marconi, si passerà in via Roma, via Bono, davanti alla nuova sede del settimanale La Guida per poi arrivare in via Roma e in piazza Galimberti, sono 7 chilometri che i cunesi potranno vivere come credono meglio, passeggiando, correndo, camminando, 7 chilometri per gustarsi a tempo pieno in una mattinata che speriamo sia buona a livello atmosferico, la città di Cuneo. E una parte del ricavato andrà in beneficenza? Ma come sempre noi abbiamo questi contributi, quindi una parte dell'iscrizione più una parte di cifre che noi mettiamo da parte come Comitato Organizzatore grazie agli sponsor e a quanti contribuiscono all'allestimento, verrà distribuito fra tutte le società, gli enti, le scuole e quanti hanno contribuito a creare i gruppi e ci sarà questa premiazione che sarà nella serata del giovedì successivo in Sala San Giovanni a Cuneo, un altro appuntamento tradizionale che andrà a chiudere questa edizione 2011 di questa settimana week della Stracuneo.